Allora amiche di Mr. Topolini, vi vado a presentare subito questo grattacielo, l'aspirante Mr. il numero? 33. È un armadio a due ante, come potete vedere, come ti chiami? Marco Biasio. Marco Biaggi? Biasio. Ah, Biasio. Infatti stiamo facendo sei parente. No, no, no. Ok, va bene, allora, Marco, innanzitutto quanto sei alto? Questi sono due metri. Quell'altro? Quell'altro che ti ha nominato prima. Che mi ha nominato prima. Perché mi sei alto due metri? Perché mamma mi fa da mangiare molto bene. Si vede, tu sei una buona forchetta. Il tuo piatto preferito? Caspita, forse il pasticcio è il meglio. Qual è il segreto per un ottimo pasticcio? Cosa che ci mette dentro tua mamma? È il ragù, la beciamella? La beciamella, fatta lei. La fa lei, non quella comprata al supermercato. È vero, cambia tutto. Cambia tutto. Cremoso, buono. Ma guarda, tu guarda, ci stai facendo venire fame. Senti, cosa facciamo? Quindi, tagliamo sto discorso. Quanti anni hai? 25. 25 anni. Sei un ragazzo già inserito nel mondo del lavoro? Sì, faccio il geometra, ristrutturazioni di interni, così così. Ti piace il tuo lavoro? Sì, adesso c'è un po' poco, però dai, non mi la metto. L'importante è lavorare un poco, ma lavorare? Meglio poco che niente. Però ti sei scritto anche a mister Topolini, quindi mi chiedo, sto ragazzone qua, cosa sogna? Di essere geometra per sempre, che è una professione molto bella, molto professionale, o di fare anche qualcos'altro? Io sai cosa ti vedo? Io? Io ti vedo cuoco. Cuoco? No, io preferisco mangiare. Lascio fare agli altri, io preferisco mangiare, sinceramente. Senti, ma tu la mattina quando ti alzi, cosa fai? Cosa mangi? Una bistecca, patatine fritte? Già no. Mattina, caffè, biscotti e via. E si parte la giornata, sennò niente. Capite, sennò niente, ma è troppo forte. Segno zodiacale? Pesci. Sei fidanzato? Non lo so, adesso vediamo. Ti stai frequentando? Sì. Stai investendo? Stai seminando? Sì, sì. Ho capito, va bene, allora, in bocca al lupo. Quella è la telecamera, adesso puoi dire e salutare chi vuoi. Saluto mamma, tutti gli amici che mi hanno portato qui, soprattutto quello di prima e tutta Trieste in generale. Bocca al lupo, divertiti. Crepi. You blocked me on Facebook.